Ciao a tutti, abbiamo fatto recentemente una presentazione di una soluzione per una richiesta che abbiamo avuto sulla gestione documentale per la gestione dei contratti in modo digitale con la relativa firma, i workflow approvativi e la conservazione dei documenti. Durante questo incontro ho raccontato questa frase che oggi voglio condividere anche con voi. Le persone comuni si differenziano dalle persone straordinarie perché questi emergono quando riescono a fare le cose in modo eccellente anche quando la motivazione è scarsa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e cosa ne discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione!